Tom il carro attrezzi Tom? Hey Tom! Sveglia, sveglia! Hai una chiamata! Che cosa è successo, Tom? Oh, Ben, il trattore è in difficoltà! Andiamo! Ben, non ti preoccupare! Tom sta arrivando! Lui ti rimetterà subito in sesto! Tom, riesci a trovare Ben? Eccolo, guarda! Sbrighiamoci! Ciao, Ben! Come stai? Cosa c'è che non va? Ben dice che il suo motore è rotto! E in effetti lo è! Ti portiamo al garage, Ben! Andiamo! Ed eccoci al garage! Ben, Tom ti darà un'occhiata ora! Cominciamo con un po' di pulizia! Cominciamo con un po' di pulizia! Con un po' di pulizia! E' sei come nuovo ben sei splendente tutto grazie a tom allora cosa ne pensi tom? si hai ragione dobbiamo cambiare il motore sembra gravemente danneggiato questo andrà bene tom? bene sembra che tu abbia disponibile quello giusto tom ehi ben abbiamo trovato un nuovo motore per te lavoro perfetto tom che succede tom? qualche problema? ah lo specchietto rotto c'era quasi sfuggito ma immagino che non sia affatto un problema tom vero che lo sistemerai facilmente? trovato niente tom? scommetto di sì ben hai un nuovo specchietto ora non è fantastico? sembri assolutamente perfetto ciao ben tom ci vediamo presto ciao ciao